segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e dopo di che tutti noi abbiamo visto le macerie tutti noi possiamo immaginare che in una zona così densamente popolata il numero di vittime civili sia altissimo indipendentemente dalla conta più o meno precisa o dei numeri più o precisi che può dare hamas e ti chiedo c'è un piano tattico che israele ha già perduto e che ha a che vedere con la comunicazione quella foto che abbiamo visto con quei soldati israeliani che spungono la bandiera israeliana nel parlamento di hamas a gaza è un errore la guerra fra hamas e israele è una guerra brutale medioevale per tentare di comprendere la comunicazione che entrambi usano bisogna entrare in questa visione del conflitto perché è brutale perché hamas la lancia con il programma del 7 ottobre al fine di testimoniare provare con il sangue degli israeliani la capacità di distruggere lo stato di israele e di uccidere tutti gli ebrei del mondo che è la sua ragione esistenziale israele risponde con una campagna militare il cui fine dichiarato e di annientare hamas quindi è una battaglia sull'esistenza di conseguenza la comunicazione di entrambi i campi è feroce i terroristi di hamas diffondono le immagini delle brutalità e delle atrocità commesse sui cellulari delle vittime affinché raggiungono tutte le famiglie israeliane per diffondere il terrore nella popolazione israeliana stiamo arrivando morirete il vostro stato la vostra vita è finita qual è la risposta di israele occupare ogni singolo spazio di gaza per testimoniare a hamas che sta morendo la comunicazione di israele è basata su una frase che ogni comandante israeliano sta ripetendo ogni soldato ripete dentro e fuori la famiglia che il pre per israeliano il ministro della difesa la fase è abbiamo imparato a parlare arabo cioè noi parliamo con voi come voi parlate con noi quindi quell'immagine che noi abbiamo vista non è diretta al pubblico occidentale non è neanche diretta al pubblico arabo non è diretta ai civili di gaza che sono vittime tanto di hamas quanto degli attacchi aere israeliani è diretta a hamas e l'intenzione voi volevate distruggere noi noi stiamo distruggendo voi e beh ho preso tutti i vostri edifici istituzionali però ti chiedo dario c'è una variabile tempo perché quando leggiamo di più è ancora di più sì certo certo capisco no no facevo riferimento al fatto che tra l'altro non è solo io sono io sono e controllo io sono e controllo ogni lembo ogni zolla di terra dove tu pensavi di essere chiaro e no arrivo da arrivo da